Ciao bella giantaglia e bentornati sul canale di PGE, quest'oggi porco cane dove cazzo sei? Come vedete si gioca Call of Duty Ghosts e non abituatevi troppo alla cosa perchè sto sfruttando i weekend gratis su Steam perchè sinceramente non è che mi ispirasse molto questo gioco... dove cazzo è? Questo è scurri, lo uccidiamo, frego un cazzo Ah di buon cecchino Comunque, come ho detto, sto sfruttando i weekend gratis su Steam del gioco per cui non abituatevi troppo all'idea che potrei caricare più video, ne farò un po' oggi, domenica e dopodiché non penso proprio di prendermi il gioco sinceramente, non è che mi piaccia così tanto Ehm, è solo un attimo per provare, per poter dire la mia su questo gioco perchè sapete no? C'è il solito flame degli utenti che dicono I Call of Duty sono per giochi di merda, fanno schifo Buttei dai, per favore Non siate ridicoli eh Non è così facile sminuire un gioco che comunque in cui vengono estiti milioni di soldi Di... 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 di Olocan, quello lì non l'avevo visto Di... sì, di dollari all'anno per essere sviluppato E soprattutto non è neanche vero che si sono sempre uguali La roba è piuttosto... Ehm... Cazzo è andato Vabbè La cosa è piuttosto, secondo me, che eh... Call of Duty è un gioco molto mainstream Molto... diciamo, cerca di coprire il più largo numero di utenti possibili Quindi è estremamente semplificato proprio Soprattutto se lo paragoniamo ad altri giochi tipo... Ehm... wow, non ho visto uno Tipo... non so, Red Orchestra o altri giochi che noi stiamo... Stiamo giocando ma anche Battlefield stesso Ehm... È molto estremamente semplificato Perché appunto vuole abbracciare il più ampio numero possibile di persone E non potete incazzarvi per questa cosa Perché, d'altronde, è così, funziona così il mondo dei videogiochi È un settore che nel giro dell'ultima generazione Cioè da quando la Playstation 3 e Xbox 360 sono state in mercato A quando sono... adesso stanno per uscire È cambiato... Oddio, va un cecchino di merda È cambiato mondo Ehm... per dirvi Ho letto numeri Riguardo a questa generazione Impressionanti Impressionanti Non in modo positivo, proprio negativo Ehm... all'inizio Oh, ci sono una ganata Ehm... all'inizio di questa generazione Ah, partita finita Beh, adesso vi accompagno un attimo nel menu Come prima puntata potrà essere un po' più lunga Anche perché era cortissimo Allora, in modo Inizio di questa generazione Quando le console sono uscite E quando la Playstation 2 e l'Xbox stavano per essere andate in pensione Il numero di sviluppatori di titoli AAA Erano circa un... cento Cento, centocinquanta Titoli tipola... tripla, scusate Sono tutti quei giochi che... in cui viene investito un alto numero di soldi Per un prodotto Che sulla Playstation 2 ancora erano prodotti che comunque erano Ehm... non di massa Nel senso che anche le idee meno... diciamo più rischiose venivano appagate Venivano proprio... venivano considerate A qualcosa come 20 studio Adesso siamo a 20 studio tripla Non ce ne sono tantissimi, eh Call of Duty GTA Battlefield Ehm... cosa abbiamo? Metti Splinter Cell Ehm... sto pensando a Bioshock Che tra l'altro adesso in questi giorni ha chiuso i Rational Games Per vari motivi che non sto ad elencarvi Per coloro che non lo sapessero E poi cosa c'è ancora? Non è che ce ne sono tanti, è vero? Ci siamo... ne ho contati sei E già faccio fatica ad andare avanti Ovviamente adesso sono un attimo concentrato sul gioco Per cui... Ehm... Faccio anche un po' fatica A pensare bene a quali fossero i... Quali siano questi giochi tripla che sono rimasti Ma in modo fidatevi Se ne sono pochi Ehm... Ah sì, volevo anche dire una cosa veloce Scusatemi per la grafica schifosa Sto giocando non sul mio computer Ma su quello di mio fratello Che in teoria dovrebbe gestire anche abbastanza bene questo gioco Il problema è soltanto uno Una cosa che secondo me è ridicola in questo gioco Che proprio mi ha fatto un po' leggermente a storsare il naso Che in teoria avevo letto che gli sviluppatori avrebbero tolto Ovvero che bisogna avere 6 GB di RAM per giocare Il mio fratello non è A4 Semplicemente perché abbiamo cercato con meno soldi possibili Fargli un computer decente E sinceramente tra scegliere... Ehm... Tra scegliere... 8 GB di RAM O 4 Oppure un i5 O un i3 Mi ha preferito prenderli... Prendere un i5 Madonna Madonna Dovevo cucciarmi Poi se si fa con... Contra No Non si fa con contra Non si si può cucciare Che cazzo Vabbè E... In quanto l'idea era di fargli un computer Figo Con il meno... Con il meno soldi possibili E che gli durasse il più possibile Per cui l'idea era di prenderli una scheda grafica medio... Medio... Media Non dico né medio alta né medio bassa Perché nessuno le due farebbe giustizia alla scheda Ehm... 4 GB di RAM Il minimo indispensabile per avere i 64 bit Che comunque quelli poteva Per i cazzi suoi metterseli a posto Il più fretta possibile Ehm... Nel senso bastava investire un altro 35 euro E poteva prendersi altri 4 GB di RAM Ehm... E l'i5 L'i5 Cazzo Doveva esserci In quanto è un... Quello... L'i3 fa veramente schifo Senza offese per coloro che lo usano Ma nel senso per un desktop Ehm... Un... Oddio Un quad core o un 2 core Lo senti a stecca Madonna E noi abbiamo puntato sui quad core No dai Non è che faccia schifo l'i3 Proprio però L'idea era di farlo durare il più possibile L'i3 È la fascia bassa della Intel Per cui... Chissà quanto sarebbe durato Quanto durerà ancora Cazzo ma c'è uno su E l'altro è lì che è camper sulla scala Vabbè Ehm... Scheda grafica invece abbiamo preso Un'AMD Ehm... Ma capisco se... Se... La 7.8.70 Può essere? Non mi ricordo sinceramente No la 7.7.70 mi pare La 7.7.70 Esatto La 7.8.70 Sono stato già meglio alta 7.7.70 Il che... Il foco a Dima Sono delle bestie quei cani Il che da una parte Ehm... Il che da una parte va Più che abbastanza Dall'altra se proprio vuole Ampliare un attimo la grafica Basta giungere un altro Un centinaio Si prende una seconda Oppure Un giorno quando si è stufo di questa carta Questa scala grafica Può prendersene una più potente L'importante è che ci sia lì 5 Che appunto riesce a garantire Il meno di far girare Anche le scala grafiche più alte In caso volesse Ehm... Per cui Tutto a posto Il computer dovrebbe andare bene Eppure tornando al discorso Call of Duty Call of Duty di merda Ha bisogno di 6 GB di RAM Roba di cui non ho neanche bisogno Battlefield 4 E... Merda Madonna che schifo Che schifo Ho sparato proprio di merda Granate a caso Non conosco questa mappa Ehm... Comunque Torniamo a parlare di questo Gio... Call of Duty di merda Questo gioco Ehm... Allora Grafica Non posso proprio valutarla Anche se vedo Quella roba lì Di cui abbiamo parlato Che è un introdotto Dal settore del cinema Che rotonda i bordi Che si vede a stecca Anche se ovviamente Anche se ovviamente un po' L'aliasing Di cui sto soffrendo Mi rovina Questa meravigliosa vista Ehm... Che dire Texture le ho messe su medie Prima erano su basse Peggio ancora Medie è decente Almeno non fa schifo Quindi non so dirvi Neanche quello Che le texture Erano una delle poche cose Di cui Call of Duty Poteva dire Sì dai Siamo Siamo con noi Un po' al passo Almeno su PC Console Senza offesa Io mi ricordo Modo Warfare 3 Buah Era meglio Modo Warfare 2 Devo dire E non so perché Non so cosa abbiano Introdotto da Che gli rende il gioco Così pesante Da schifarlo Tanto Buono Andata Sì non come dire Il gameplay È veloce È facile Il gioco Cioè è facile Giocare ovviamente Per il discorso Che abbiamo fatto Prima all'inizio Deve abbracciare Un pubblico Più ampio possibile Sì Fottuto Per cui Merda Pensavo fosse girato Stavo un attimo Guardando a sinistra Quella coda dell'occhio Ma che Muori Cosa La granata Non ti ha preso Vabbè Vabbè Vabbò Non puoi farci niente Merda Vabbò Come sempre Le animazioni di morte Sono stupende Perché appena muori Interviene Radgol Il Il motore fisico Che gestisce I corpi morti I corpi morti Sì Ogni tanto Ottieni di quelle Morti Spettacolari Cos'è sta roba Non lo so Lampeggia Vabbè Di questa qua Che alla fine Non è Non è proprio un problema Nel senso È un problema Ma non è Vitale Per l'economia Sì Per noi Vabbè Meno pip Sup Pornhub Allora in modo Le connessioni Fanno veramente Schifo E in alcuni casi Mancano completamente Tipo io qua Sono leggermente Fuori dalla città E mi tocca Prendere Mi è toccato Prendere un Provider privato Che va via radio Diciamo Le trasmissione radio Che Comunque È figo Tira Io ho 20 Megabyte No megabit Scusate Sì megabyte Madonna Ma sai che sei scarso Potevi coltellarmi Tu che avevi tutto il tempo del mondo Vabbò Vector Figa Qua si vede benissimo Sì Stavo per indicarlo col dito Ovviamente voi non vedete Si vede benissimo Questo arrotondamento Dei bordi Nelle armi Aspetta che ricarico anche questa Per cui I poveri Sfigati Che uno hanno Non facciamo tanti nomi Ma Beh dai Sapete anche voi Che è uno dei peggiori Provider italiani Che è quello che per In teoria dovrebbe essere Il migliore E comunque Non hanno fatto un tempo a scaricarsi Per cui Anch'io ci ho messo due Sera per scaricarlo Perché sono 20 giga Comunque Grazie per averci guardato Guardiamo insieme L'ultima uccisione Bang Ah RX 160 Che merda di arma sei No dai Grazie per avermi guardato Guardate anche gli altri video Su PGA E Ciao bella Grazie per avermi guardato